ok ragazzi riaccomi nuovamente nella noia craft scusate l'interruzione nello scorsi episodio ma sono crashato sclerato e ho chiuso tutto vabbè nel frattempo ragazzi mentre passavano questi lunghi e uni secoli dei secoli mi sono fatto gli altri brass ingot allora ho consumato 60 di rame 20 di zinco e ho fatto 20 più 64 c'è i 4 che ho fatto prima 20 più 64 vabbè insomma tanta roba sono pieno di brass e adesso dovrei cominciare a fare la mod ma non ho la minima idea di dove cominciare allora io so di sicuro che mi serve un boiler perché il boiler serve a fare lo steam è proprio la base poi ci servono dei tubi per spostare questo steam da un punto all'altro e poi mi serve questo a fare qui perché voglio fare degli attrezzini che sono questi qua guardate che bello mi serve una nugget la nugget non l'ho ancora fatta cavolo devo mettere l'altro brass e altro brass scusate ragazzi mi serve una del nugget non l'avevo considerata questa non l'avevo considerata ok vediamo altro coppia e altro zinco vabbè per ora cominciamo a craftare ragazzi ho già in mente dei progettini poi poi ve li faccio vedere adesso con calma cioè quelli che vedete adesso però vi spiego lentamente lentamente no non è vero vi spiego molto velocemente perché non ci ho voglia di perdere tempo ragazzi ripeto questa non è una serie spiegazione questa è più una cosa perché mi stavo annoiando non sapevo che fare quindi vi faccio vedere un po' io come gioco con le mod e vi spiego un po' di cosettine se capita ok prima di tutto devo craftare qui fornace al centro brass intorno e otteniamo il nostro steam boiler ragazzi il steam boiler non farà altro che bollire l'acqua e procurarci dello steam lo steam sapete cos'è il vapore ragazzi semplicemente il vapore ovviamente ha una sua pressione questa pressione ci permetterà di ottenere dei meccanismi attivi è proprio la base dell'industria quando ci fu l'età industriale la prima età industriale fu con lo steam perché con il vapore che permetteva di attivare i macchinari ok basta siamo a lezione di storia siamo a minecraft mi servono anche i tubi quindi faremo dei tubi per trasportare il nostro steam ovviamente io continuo a premere shift ma sono sicuro che il gioco mi crescerà di nuovo devo collegare guardate che figata il boiler con un qualunque macchinario noi vogliamo caricare e in questo caso io voglio caricare quel macchinario di prima che vi ho fatto vedere perché non si collega perché il boiler avrà un attacco suo che non conosco qual è l'attacco del boiler? non ne ho la mia idea ma non è che il boiler è un multiblocco? non è che serve? ah potete che serve un multiblocco vabbè vabbè facciamo queste prove dai allora tutte prove ragazzi io non ho la mia idea di come cacchio vada sto coso però ok qui siamo proprio all'altezza che ci serve vi faccio anche vedere il perché stupido zombie muori perché ci serve l'altezza della hai rotto le pa... ti spacco la testa vieni qua vieni qui oddio nervoso mio dio ah hai bloccato una ragnatela aspetta che rompo la ragnatela ecco vieni qui vieni no? vieni come salgo là sopra? devo salire là sopra? devo spaccare la testa sto zombie schifoso come salire? muori! ah sono soddisfatto ok dicevo mi serviva lo steam qui perché guardate cosa faccio guardate cosa faccio allora io prendo un blocco metto lo steam boiler qui e poi metto quest'altro affare che dovrei craftare che si crafta come? questo coso qui si crafta con... ah ok i vetro, i pannelli di vetro quello affare ragazzi vi spiego semplicemente cos'è non so se funziona quindi finché non funziona non ve lo spiego aspetta prima lo provo e poi ve lo spiego aspettate che trovo del vetro poi ecco pannelli di vetro perfetto non premo più shift ragazzi mi sto abituando perché ho paura che crashi tutto ah mi servono tre nugget non so se avete notato tre nugget quindi se metto il brass dentro l'inventario ok perfetto lampo di genio non va perché non va ah le brass plate no perché ho cliccato quello il brass plate devo fare quello il brass ok perfetto ragazzi l'abbiamo fatto questo affare ragazzi in teoria in teoria vedete come giro via dalla... via da casa mia b사를 via putta anima laccia schifoso cavolo sei tu può 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 buoni via ok questo affare in teoria aspetta che posso apprezzarlo In teoria No, questo è il verso sbagliato Infatti non lo vedo azionarsi ragazzi Dovrebbe azionarsi ma non va Questo affare in teoria È È una pompa In teoria questo cosa dovrebbe aspirare l'acqua Però non va infatti Teoria Non sta andando Ah, mi sa che va a steam Ragazzi mi sa che va con lo steam Perché è il Archimedes crew, sarebbe la vite di Archimedes Perché questa dovrebbe tirare sull'acqua All'interno del macchinario, però serve dello steam Per attivarlo, ok, quindi dovrei fare tipo così Ok Ok, quindi devo attivare in qualche modo Con un paio di secchi d'acqua a sto coso Poi il tutulambaradam partirà, vediamo se funziona Vediamo ragazzi Tutto sperimentale Non ho la minima idea di come funziona ragazzi Quindi non chiedersi Se non andrà abbiate pietà di me ma Sto facendo di tutto Sto rumore di fuoco Mi sono spaventato Era il fuoco sotto del nether Fan Mi hanno dato la bocca le parolacce oggi Eh scusate se faccio un po' di ordine ragazzi Ma l'inventario lo voglio pulito Sapete quanto odio il casino No, questi me li tengo perché potrebbero servire I brick li userò molto sotto Ok Volevo usare brick un po' più grezi Magari sabbia Perché è intonato con il giallo Vabbè no, meglio brick quelli antichi Tipo questi qua Perché sono più di cantina Questa sono questi qua Questi vecchi grossi Ti scorticati Anzi, questi vecchi grossi Ok Mi serviva Che avevo detto Il coal Un secchio d'acqua Che ho utilizzato Giusto Quindi mi serve il ferro Che non ho Giustamente Non ho ferro Sì io scrivo bucket Raga ho cliccato nella nail E ho laggato tutto Raga Abilitiamo tutto Ok bucket Si fa con il ferro Non so cosa sia Ferro e basta Ferro 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 Non ne ho Sì Sì ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho GG Ok Ritorniamo sulla mod Devo togliere tutto Mettere Com'era? La No Com'era la Flux F Flux Burst in power Guarda come lagga la nail ragazzi Non capisco perché mi lagga così Mi lagga C'è poco da fare Perché c'è anche la terma Non voglio la terma Via Via tutto Via Via Voglio solo Via anche item Voglio mod Flux Burst Oh Perfetto Come va il ferro E è uscito anche il ferro Stigi Ok mettiamo qua c'è questo ferro Ragazzi ripeto Registro Tutto Lo so che potrebbe sembrare non noioso Ma potrei fare qualcosa di figo Quindi non voglio perdere nulla Questa serie è imprevedibile Potrebbe essere Cadere un meteorite dal cielo E ammazzarmi Meteorite Mi è venuta un'idea No vabbè ragazzi Per la prossima serie Non basta meteorite Non so che ho avuto abbastanza Nella scorsa Nella tecnologia 3 Mamma mia meteorite Ok devo mettere dell'acqua Vediamo se qui si rimoltiplica l'acqua Se la tolgo Sì ok Metto l'acqua Metto coal No devo staccare la pipe Sennò Ecco perde steam Vediamo E' partito Mamma mia ragazzi Guardate No L'acqua che sale Proprio con la vite No E' troppo bello Sta mod Ma che cavolo Stai dicendo Ma che cacchio Dici Questa è l'archimede Scrive ragazzi Se la trovate su google La trovate subito La vite di archimede Vaffan Fatti sti salti Troppo bello Oh 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 Che cacchio sta a fa' qua Che è casa tua Cavaletta So quegli animali in acqua Che mi spazzopano Sono sicuro Ormai sono deciso Ok ragazzi Abbiamo lo steam Abbiamo l'autocaricamento d'acqua Che è tipo troppo evico Si stare pieno di steam Guardate Ok serve una fornitura Di coal permanente E serve E tank I tank di steam Sono questi qua No sono Quali sono i tank di steam Eccoli questi Si fanno con Così Come i tank della bullcraft Ok ragazzi Scusate ma Come al solito Ci casco come un pollo Premo shift E' quello che succede Ok Ho fatto questi due tank Ero rimasto che sto facendo i tank Giusto Dicevo che si fanno come quelli della bullcraft Di vetro Però fatti con Il Il brass Molto facile Poi volevo fare C'era questa cosa qui Che la voglio assolutamente Con il compasso Redstone Iron Questa la devo fare assolutamente ragazzi Ma la devo far vedere Perché è troppo bella Aspettate Iron So esattamente come funziona questa cosa L'ho vista in azione L'ho provata in single player E' bellissima Iron Redstone E' questa Ok Oh non è crashato Incredibile Ok così Bam Una Mi serve un'altra Agat Non premo shift Non premo shift Non lo faccio Ok Due Queste cosette ragazzi Sarebbero tipo le Le valvole che ci dicono Quanta pressione c'è E posso usarle sia per i tank Che per ogni cosa Guardate Guardate Fare tipo così Mettele così Guardate Dice quanta pressione c'è all'interno dell'impianto O del tank O quello che sia In questo tank c'è questa pressione qui Non so sinceramente quanto Che significa Cioè non so se così è poco O tanto Sta esplodendo Non capisco Che cazzo Che ho fatto sta levita Ma sa la pressione Non capisco se sale e scende Non è che si capisce molto Comunque vabbè Fatto questo Vado avanti Stava spruzzando gas Dapertutto Ehm Faccio altri tubi Perché devo fare Un ultimo macchinario Che si fa Qui Ecco sta uscendo Tutto il gas Dapertutto Fermati Spegniti Come lo fermo Non lo fermo Sta uscendo gas ragazzi Sto prendendo tutta la pressione Guardate Sta scendendo la pressione Che figata Sto buttando via tutto il gas E l'aria No Bellissimo raga Ho svuto tutto il gas No dai Epica sta modo Basta Ok mi serve questa cosa Qui dove Questo qui Steam filler Tre tubi E quattro Oh ci sono dueci Tre tubi che c'ho Oh mio nice Tre tubi E un po' di cobble Sto che prendo dal terreno Ok Proprio Gli accattoni Qui Prendiamo i pezzi di cobble Sto dal terreno Qual era questo Vamo Andato Questo affare ragazzi In teoria Ok Eccolo qui Che vorrei mettere più in basso Ma anche qua sopra va bene Non mi lamento Questo affare In teoria Serve a ricaricare I macchinari Della Fluxburst in power E questi macchinari Che noi andremo Molto presto a fare Ve li faccio vedere Subitissimo I craft Perché non mi metto a farli adesso Vediamo un po' quanto ci vuole Vediamo un attimo Se ci vuole troppo Se ci vuole troppo No Se ci sono facili Allora Vediamo un attimo Se mi basta il brass Lo faccio subito Altrimenti mi spiace Ma devo rimandare Ragazzi Non mi posso mettere a fare Il brass Tutta adesso Sapete quanto tempo ci vuole Serve l'iron Aspettate Ce la dovrei avere Mi sa che c'ho tutto Mi sa che c'ho tutto Sì ce l'ho Guardate Guardate che c'ho tutto Dove? L'ho perso di vista Eccolo Mamma mia L'ho fatto No cc L'ho creato Ok Vediamo come sta il gas A pressione Un po' bassa la pressione Possiamo dare un po' più di vigore Che ne dici? Eh? Mi sa che ci serve altro Altro coal vero? Non c'è abbastanza O forse un altro boiler Se metto doppio boiler Uno accanto all'altro Che succede? Si riempie anche questo? Ok L'impianto si collega Perché lo stimolo vedo Però non si collega l'acqua Ci vorrebbe un boiler Parallelo Forse in questo modo Tipo uno qui E uno accanto Servono altri tubi Altro brass Ce l'ho Aspetta però Facciamo due conti Allora Tanto faccio altri tubi Per forza Ok Mi servirà un'altra di queste trivelle Qui che succhia l'acqua Che dovrò collegare Questo qui qua Che aspira l'acqua di là E bla bla E ho finito il coal E gg E Entra anche Ok Qui ci andrà un'altra trivella Che aspira l'acqua Con l'acqua infinita dietro E questa trivella Ovviamente ragazzi Che ho creato Non fa nulla Vedete Come scavare a mani nude Ma direte Appena fatto una trivella Che si scava a mani nude Eh Ma ve la faccio vedere tranquilli Ok Qui ci andrà Altra acqua infinita Sta avvenendo una cosa Fighissima Stata casa ragazzi Ormai ci sono Farò i big progetti Mi spiace ragazzi Ma Ripeto Registro tutto Tutti i big progetti Che faccio Ve li faccio vedere Tutti qui in camera Ok Qui ci andrà Un'altra di quelle viti E aspirerò l'acqua Per quest'altro boiler Però Il boiler là sotto È un po' nascosto Mi serve altra energia Potenza Ma se metto le stick Non vanno le stick E se metto Energia raga Energia Carcola Ho tagliato tutto quell'albero Lo metto tutto lì Accetta di titanio Vado a tagliare alberi Come un pazzo Darkwood Sì questo diventa Carcola Sì 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 Vai a cuocere Cottura Non va sotto Sì che ci va Ok Raga Mi faccio una citta in titanio Ce l'avevo il titanio? Sì Accetta in titanio Perché io spacco tutto Bam Ok Quindi Raga Ma faccio pure la pala In titanio Faccio tutto in titanio Il bronzo che mi serve adesso Via Ok Via il ferro Il copper La redstone Via tutto Ormai sono il boss di boss Gli stampini che mi sono avanzati Li mettono una cesta qua sotto Anzi una cesta direttamente Quella del brass Così poi quando con calma Mi metterò a fare il brass C'è tutto qui disponibile C'è cuore Ok Un altro modo per fare il brass Ragazzi Ci dovrebbe essere per forza La thermal deve aggiungere per forza Scusatemi ma io Devo avere un Ci deve essere per forza Un sistema La thermal deve avere per forza Un suo sistema Di creare il brass Vediamo un po' se c'è Un modo Brass ingot Allora vediamo un attimo L'unico brass che abbiamo È quello della Flax verde Ragazzi Purtroppo Vediamo un po' Posso fare questo No niente Sono parecchi craft Però l'unico brass che c'è È questo L'unico modo per farlo È questo ragazzi Purtroppo la thermal Non ci permette altre opzioni Con la Gregtech Avremmo avuto altre opzioni Infatti le sto per implementare La Gregtech Non in questo pack Ma nel prossimo che farò E ho bisogno di coal Qui abbiamo messo il cash coal A cuocere Raga Io vado a farmi la legna Volete vedere come faccio la legna? Restate attaccati Se no Ciccio Qui do il video Potrei anche non registrarlo Nel family in single play Ma ragazzi Non avrebbe senso Ve lo faccio vedere Adesso mi vado a tagliare la legna Lascio questa trivellina Sopra questo affaretto Semplicemente cliccandoci con il destra Guardate E metto il cash coal qui E lascio Tutto a se stesso Quello che succede Succede A me adesso non interessa Torneremo poi Nel prossimo episodio Con calma Intanto ho da farmi Che cacchio è qualcosa? Cos'è? Ah ragazzi Uno nei commenti mi ha scritto Falle esplodere Sì È vero È un genio Facciamo esplodere questo? No Che figo Vuoi vedere Questo che fa? Ah la faccia di creeper Simpatico È un ragazzo mi ha scritto Fai esplodere il zombie Di biscotti Che ti dai biscotti Veramente? Infatti così è stato Grazie per i ragazzi Poi Digi per i commenti È veramente veramente utile Allora devo fare esplodere questo Vedete che succede No 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 Non esiste proprio Sì Che ha fatto? Niente Vabbè No non può essere così veloce No non è possibile No 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 Non me lo considera albero? Really? Scherziamo? Cioè ragazzi avete visto questa accetta che ha fatto? Ci ho affettato con l'albero in un secondo Cioè non ci posso credere C'è sta accetta in titania senza senza Perché c'è un albero che vola lì? Che è sta mafia? E tu vieni giù eh Perché sei lì sopra? Che sta a far là? Vieni subito qui Eh E dai eh Ha affetto tutto raga Non sta accetta è troppo veloce Guardate che velocità Cioè ma Non C'è un cheat No GG è sta accetta raga Cioè ha affetto tutta la foresta in 5 minuti No non è possibile GG raga No GG è questa accetta Devo fare una forma automatica con questa accetta Non so con quale mod dovrei inventarmi una forma automatica dei alberi Poi ci penseremo Tanto io affetto Chi c'è c'è? Chi non c'è non c'è? Sì si potrebbe fare Con la thermal Le big idee ragazzi No Potrei fare una forma automatica dei alberi con la thermal Ok mi è venuta una mega idea nel mente ragazzi Che non potete neanche immaginare Dai Eh affetta Bravo Uh yuppie Ok Ho raccolto quanto legno? Tanto mi sai raga Non voglio aprire l'inventario Però se me le prendo Se per me Belle mature Belle cresce Questa non cresce mai Quella che rimane sempre lì da sola Sempre singola Me le Andiamo Ok Andiamoci in casa Vediamo che cosa abbiamo raccolto nella nostra avventura Abbiamo raccolto Quattro stack Più tre di legno Ok Lo mettiamo qui Tre legno Questo lo mettiamo a cuocere qui E quest'altro lo mettiamo a cuocere Qui sopra Ma se ci metto il karskowal sotto a cuocere Eh scusatemi C'è un karskowal Vai Eh scusate eh Scusate abbiamo il karskowal Usiamolo no? Ce l'abbiamo Permettendo Eh dai no? Ok Questo legno lo mettiamo qui nella cessa del legno Ce lo mettiamo da parte Tanto servirà serve per fare altro karskowal Nient'altro Ragazzi per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video Dove andremo a fare quelle cose con la trivella Che abbiamo lasciato lì Sperate che metto Le semine Le cose qua Sapling a posto Via Le mele ve le mangio Chi c'è non c'è Chi c'è c'è Chi non c'è non c'è Grazie Andiamo E ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Bella a tutti Un ciao dalla trivella Ciao 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 ciao